Un vasto incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di lunedì 25 marzo tra le località i borgo e piandane, proprio ai piedi di Belmonte, tra Valperghe e Pertusio. Le fiamme stanno divorando la Buscaglia. Sul posto stanno operando diverse squadre di giugno e fuoco tra San Maurizio Canavese, Ivrea e diverse squadre di E.B. Nella macchinata il manto boschivo aveva avvolto i boschi tra Priacco e Borgiallo, in località a Bassiglia. Sul posto di giugno e fuoco di Gornier, Ivrea e diverse squadre di E.B. In entrambi i casi l'ipotesi di dolo è quella più accreditata. Grazie a tutti.